Penso che possiamo solo essere soddisfatti perché la prima partita di un corso nuovo, le prime due partite, la prima abbiamo vinto, la seconda purtroppo no, però abbiamo messo il cuore, si è visto da fuori qualche errore che è meglio che è successo adesso, che succeda dopo. Sono contento, squadra giovane, i nesti sono entrati bene nel gruppo, tutto molto positivo.